siamo al nuraghe santa barbara e oggi è il 2 di ottobre ecco stiamo facendo un po il pericolo abbiamo visto già la torre centrale dove si proietta la figura taurina qui è tutto pieno di alberi di olivastro e un nuraghe complesso fruibile sempre diciamo 24 ore al giorno questa è la parte della torre più alta ecco varie pietre che poi sono crollate si trova qualche chilometro da paese di vila nova truschedo ci sono anche diversi altri nuraghe ecco stiamo completando il periplo giornata stupenda 26 gradi si può salire sino alla torre qui c'era un'altra torre ancora ed ecco il punto di accesso che porta al cortile e poi appunto porta la torre centrale ecco qua torre laterale con tutte le finestre che segnano i vari equinozzi ecco la torre centrale quella feritoia la forma taurina si vede meglio entrando questo spettacolo è magnifico è crullata una parte della copertura tolos e qui ecco più la forma taurina no 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 Grazie.